Alessia, ricevi questo anello, un segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mattia, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Facciamo un applauso a questi sposi. Grazie! 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 Grazie!